Niente più imu arriva ILIA, ovvero l'imposta locale immobiliare autonoma. Il Consiglio regionale ha approvato il disegno di legge che istituisce appunto un'imposta locale sugli immobili. L'assessore alle autonomie locali Pierpaolo Roberti ha definisce un passo importante perché il Friuli Venezia Giulia possa effettuare autonomamente scelte fiscali mirate e funzionali alle esigenze del territorio. Una misura che complessivamente toccherà 110 comuni, circa 140.000 immobili e circa 137.000 contribuenti e permetterà al Friuli Venezia Giulia di mantenere la propria attrattività verso l'intero sistema paese, secondo Roberti. Verrà corrisposta direttamente ai comuni, pertanto non passerà allo Stato. La risposta direttamente ai comuni non cambia niente nel senso che viene mantenuto quello che era, diciamo così, l'impasto dell'inizio, cioè nel senso quello che lo Stato ci aveva già dato a livello di accatastamenti, a livello di classi accatastali e tutto, però non la pagheremo più lo Stato, ma la pagheremo la Regione, cioè la pagheremo il Comune e la Regione pagherà direttamente lo Stato. Tra i principali emendamenti discussi in aula il Consiglio ha deliberato la diminuzione dall'1,6% allo 0,96% della liquota massima per tutti i fabbricati strumentali e l'attività economica, con un ulteriore contributo regionale del 70% a beneficio di quei comuni che decideranno di abbassare ulteriormente l'aliquota stessa fino allo 0,86%. La Giunta ha chiesto al Movimento 5 Stelle, che ha votato favorevole, di ritirare i propri emendamenti. Quello su cui noi abbiamo cercato di focalizzarci è dare supporto ai comuni, soprattutto quelli più piccoli per quanto riguarda la gestione dell'imposta stessa, quindi politiche fiscali autonome e anche la revisione dei conti per quanto riguarda la riscossione stessa dell'imposta. Sono sicuro che questa imposta sarà rivista nei prossimi anni per potenziare le politiche di natura fiscale che ogni Comune deciderà di adottare. un recente passato in termini di parte, se vogliamo avere veramente un rilancio.